Lasciate perdere il contenitore Dai che tira una mano Ciao ragazzi bentornati e bentornati Io sono Magrus Ritorniamo sempre qui con Rainbow Six Siege E' un pochettino che ci sto lavorando su Ecco perchè ho sblocchiato in pratica tutti gli operatori Ho preso un pacchetto dove sono praticamente tutti quanti i livelli Sto utilizzando alcuni che mi avete poi tra l'altro anche consigliato In maniera tale da cercare almeno di avanzare e di andare un pochettino meglio Naturalmente come al solito in video questo nemmeno per mettere un bel pollice al zoom Un bel commento, un bel mi piace Ma benvenuti ci diciamo come al solito a saluti e partiamo in cessione contro il caso Amilcare, sei il troppo e Fonzino Sembra che abbia già trovato No che la partita l'ha già trovata Come al solito spesso mi capita di giocare sempre in inferiorità numerica La cosa poi che mi fa impiazzare come una bestia E' che in pratica Quando qualcuno della sua squadra esce Quindi è sempre rimpiazzato qualcuno di nuovo Allora abbiamo Allora camera l'ho provato ma non mi trovo Mi dico per la verità Questa invece mi trovo Al chiaro mi trovo con le telecamere mi trovo Allora mettiamo lei Cioè aspetta un attimo Allora una la mettiamo là Aspetta Un'altra la mettiamo là Ok L'avevi già detto anche prima Ok Non so se ci combina dove metterci qua Mazza qua non ci combina proprio a stare Allora qua si è arrivano arrivano da qua Tutti da un lato? Non puoi nasconderti Lasciamogli vedere chi siamo Ok Uno è morto con la trappola Aspetta eh Ragazzo lì Mi carica il grappolo Non tanto farmi dove la messa Ok Restano quindici secondi Non ti muovere Ti medico Restano Dieci secondi e via Va fantastico Bellissima sta cosa Ma porca miseria Vabbè l'importante è che abbiamo vinto Però fantastico Bombe protette Non ho capito scende come siamo morti Ok per attaccare Allora Blackweed non va male Perché c'è lo scudo davanti Però non mi trovo perché Muove troppo lentamente l'arma Questa cosa non mi piace A Fuzz lo sono già becchiati Questo pure non è male Capitavo Ok dai Con la balessa Anche se la balessa non utilizzo molto Vai proviamo con Blackweed Attenzione che La rompi tu Ok bravo Oh Aspetta Che palle Quando si affacciano E spalla Ok Non sembra che stiano Rompendo le scatole Vai Carica in posizione Ok Hai diventato Che devi fare Aspetta Ammazza Che cavolo è combinato Prova a entrare Lancia una granata EMP Rimane un nemico Aspetta Non hai più il disinnescatore Aia Aspetta Aspetta Che cazzo stai Abbiamo il disinnescatore Aaaaa Bellissima Va beccato da dietro Va beccato No Vabbè abbiamo vinto Scensori eliminati Missione d'attacco riuscita Ecco Sei stato sfortunato Hai visto Ammazzato noi Però almeno Ti avete visto Brutta partita Per lo meno Per adesso Terzo round Vinciamo Ma male Ok Caro pulso Vecchia maniera Vediamo un po' Se ci vai bene Ancora Ancora Comunque ci abbiamo E sta qua Con le telecamere Com'è niente male Mi trovo bene Vai Continua sempre con lei Direi Metterla qua Ancora Cinque secondi Basta Che ti frega Bomba localizzata Ok Allora da qua Da dove Entrano Ah che palle Ma poi Sono sempre io Disinnescatore in campo Cazzo Dove sta Dove sta Ok Dove sta Dai Ok Abbiamo vinto Alla grande Meno male Dai ci stiamo un pochettino Recuperando 3 a 0 E che palle Allora qua A chi ci possiamo Beccare Aspetta un attimo Perché Vorrei che Fuzzi Mi da problemi Qua Se sono già Presi Quindi non è un problema Allora I banna pure Mi va bene Perché Mi fa da un pochettino male A volte per il passaggio Vabbè Vecchia maniera Torniamo con i banna Vai Vorremmo a vedere Se Ah Siamo Disinnescatori Ok Raggiungete la bomba E disinnescatela Occhi aperti per il nemico Merci Attenzione Vedete che qua Spara Non è dall'altro Ecco qua E il primo è andato Fanculo Dai Qualcun altro che si fa vedere Che è gentile Che ci ammazza dal balcone Io li odio Questi che ci ammazza dal balcone Allora Facciamo così Guarda Sgombriamo la strada Dai Alla grande Vai Ok Stiamo combinando un macello Vai Arrivo Ok Alla grande Dai Un'uccisione Comunque L'abbiamo anche fatta Non è andata niente male Siamo arrivati secondi E tre uccisioni Zero assist Siamo morti due volte Abbiamo fatto un bel colpo Alla testa Alla distanza Ok Era la terza partita Che facevo Vi faccio vedere Soltanto questa Perché vi dico La verità Abbiamo perso Ho giocato un po' male Ed è vero Però Addirittura Una partita L'ho giocata In due contro quattro Qua addirittura Vabbè Siamo comunque riusciti a giocare Non dico A pari di merito Ma almeno Qualche rando L'abbiamo fatto Poi vabbè Siamo stati Per la prima volta Affortunati a giocare In superiorità numerica Ma normalmente Non è mai così Naturalmente Come passate i video Questa mi mette un bello E poi c'è il zoom Per il commento Mi piace Fatemi sapere la vostra Io lo posso Sperare come sapere Questo video Se non mi piace Se non vi commentate Se non vi piace Non ci piace In questo video E bye bye